C'è un fiume di rifiuti ad accogliere i vacanzieri sulla strada verso il mare. L'arteria aversana che dal comune capoluogo conduce cittadini, turisti, vacanzieri verso il mare, sbucando sulla fascia litoranea, appare così questa mattina. Questa è la piazzola di sosta di ingresso dalla tangenziale verso la strada aversana, piena di rifiuti di ogni genere, una discarica a cielo aperto, materassi e persino carcasse di motori per barca che accolgono gli automobilisti. Ogni spazio libero viene ciclicamente utilizzato per depositare rifiuti. Lo sa bene l'amministrazione provinciale di Salerno, l'ente competente a gestire l'arteria, è chiamata anche su sollecitazione dei sindaci nei cui territori ricade la strada a provvedere a bonifiche saltuarie, ad agevolare i furbetti del sacchetto selvaggio, certamente la scarsa illuminazione dell'arteria nelle ore serali. Forse sarebbe il momento di pensare ad un sistema di videosorveglianza che consenta di fermare questo degrado e di trasformare davvero la versana da fiume di rifiuti in strada verso il mare.